Ciao, sono Enrico del Frantoio il Cassone di Vada. Se anche tu sei un frantoiano o hai un'azienda che produce olio o magari vorresti produrre l'olio, magari sei un imbottigliatore o un commerciante d'olio e credi che i nuovi adempimenti relativi ai registri telematici siano complessi, credi di non avere il tempo di leggere le 115 pagine redatte dal Ministero oppure hai già un sistema di rintracciabilità di prodotto e sei alla ricerca di qualcosa di più semplice che ti consenta di avere più tempo da dedicare alle attività più importanti, allora ti invito qui lunedì sera alle ore 21-28 settembre per un incontro gratuito sui nuovi adempimenti siano. Tutte quelle regole legate ai nuovi registri telematici che sono obbligatori non soltanto per i frantoi, ma anche per le piccole attività di produzione di olio. Sono regole che ci consentono di avere maggiore trasparenza e rintracciabilità di prodotto, per cui è importante capire quale sia il sistema più rapido, semplice e veloce. Allora lunedì 28 settembre alle ore 21 ospiteremo qui il signor Pelvito Colonna, titolare della società Next Future che è la più importante software house nella gestione dei registri telematici a distanza. Ci aiuterà a capire qual è il sistema più semplice per essere i più efficienti possibili. L'incontro è completamente gratuito, ti aspetto lunedì 28 settembre alle ore 21 qui al Frantorio di Vada. Ciao!